Ti sei mai chiesto quali siano le specializzazioni di medicina più richieste? Beh, oggi lo vediamo insieme. Allora, prima di procedere nel succo di questo video, facciamo prima un cappello introduttivo. Secondo me è molto necessario. Quello che voglio dirti, infatti, è che questa classifica che stiamo per vedere non deve influenzare la tua scelta. Non devi, infatti, puntare alle specializzazioni meno richieste per avere più possibilità di eccellere. E non devi neanche farti ingolosire da quelle che sono nelle prime posizioni. L'unica cosa che ti deve influenzare nello scegliere la tua specializzazione è la tua stessa vocazione. Quindi, quando sarà il momento, guarda semplicemente a quale potrebbe essere il lavoro dei tuoi sogni e ricorda gli esami che hai dato e chiediti quale ti ha appassionato di più. Bene, ora possiamo tornare a guardare le nostre specializzazioni più di successo. E ricordandoci che le specializzazioni di medicina sono divise in tre aree, ovvero medicina, chirurgia e servizi clinici, ecco la classifica delle più richieste. Queste specializzazioni mettono davanti allo studente interessanti prospettive di lavoro sia in ambito privato che pubblico. Le specializzazioni mediche avanzate prevedono un numero massimo di studenti e pertanto un numero limitato di professionisti che andranno a esercitare la professione. E di conseguenza c'è anche una minore concorrenza tra gli studenti che completeranno con successo il ciclo di studi riguardante quella specializzazione. E ricorda che molto probabilmente dovrai essere disposto a trasferirti in quanto molte specializzazioni richiedono il trasferimento in un'altra città perché non tutte sono disponibili nella stessa università in cui hai studiato medicina nei primi anni. E tu, sei pronto a spostarti a Canica T per il lavoro dei tuoi sogni? Scrivicelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.